Nel bosco, le radici delle piante che compongono tutti e tre gli strati, alboreo, albostico e l'erbaceo, sono avanti un meccanismo di difesa contro l'erosione del suolo. Se proviamo a versare un vaso senza radici dell'acqua e un vaso con delle radici d'acqua, noteremo che nel primo caso l'acqua raccolta nel vaso sarà più sporca rispetto a quella raccolta nel secondo caso. Se pensiamo ad un suolo più esteso rispetto a quello del vaso, ogni volta che piove l'acqua porterà via terra e sostanze preziosi. Infatti, dopo cuocere la zona, l'aria, risulta restabile. Infatti, mantenere i muschi è anche un importante garanzia di sicurezza. A presto! A presto! A presto!